Domani il voto online degli iscritti al blog del Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti. Nel quesito che deciderà la posizione da tenere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, si chiede se il ritardo nello sbarco della nave Diciotti per redistribuire migranti nei vari paesi europei sia avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato. La formula adottata sarà quella dei referendum, per dire no bisogna votare sì, ma è polemica nel Movimento. I tre giorni di tregua nella protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte o vino serviranno a sondare la base sulla proposta di accordo raggiunta al tavolo di filiera tenuto dal ministro Centinaio. 72 centesimi al litro per i prossimi tre mesi per arrivare a un euro a fine stagione. Il 21 la trattativa riprenderà a Roma. Donald Trump conferma il ritiro delle truppe americane e dalla Siria mette in guardia gli alleati europei. Prendano gli 800 combattenti dell'ISIS che abbiamo catturato e li processino, altrimenti saremmo costretti a rilasciarli. Per il presidente statunitense questi miliziani, se liberati, raggiungerebbero sicuramente l'Europa. Continua in Francia la protesta dei gilet gialli. Ieri per la quattordicesima settimana consecutiva guerriglia e scontri per le strade di Parigi. Dal presidente Macron dura condanna per l'aggressione subita dal filosofo Finkraut. L'Europa guarda con preoccupazione anche alle proteste in Albania. Dopo l'assalto al palazzo del governo a Tirana, l'opposizione di centrodestra annuncia per giovedì una nuova manifestazione contro il premier socialista Rama. Il nuovo ponte sul Polcevera che sostituirà il viadotto Morandi potrebbe perdere i 43 lampioni pensati in memoria delle persone che hanno perso la vita nel collasso della struttura. La decisione sarebbe stata presa non solo per ragioni tecniche, ma anche per motivi di sicurezza. Per ricordare le 43 vittime c'è l'ipotesi di un memoriale ai piedi del viadotto. Piontek trascina il Milan verso la Champions, una doppietta del polacco decisiva nella vittoria per 3-1 sul campo dell'Atalanta. Adesso i rossoneri insidiano il terzo posto dell'Inter che oggi ancora senza i cardi ospita la Sampdoria a San Siro. Le posticipo poi Napoli contro il Torino per tornare a meno 11 dalla Juventus. Una buona giornata e una buona domenica dal telegiornale della Sette. Cominciamo dai nodi che tengono legati, ma anche divisi per certi versi, l'Ego e il Movimento 5 Stelle, le questioni di governo. Innanzitutto la settimana prossima capiremo in che direzione ci si muoverà sul fronte 18 e soprattutto sull'inchiesta nei confronti del ministro Salvini. Sappiamo che domani è la giornata in cui si dovrà esprimere attraverso il blog la base del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti ci arriveremo perché c'è un altro fronte caldo che in questa settimana ha segnato quelle che sono le difficoltà nel conciliare due posizioni diverse. Un sud dei nafanni, un nord sempre più insofferente. È il capitolo delle autonomie, tirano la fune, ma non nella stessa direzione. Lega 5 Stelle, il pressing nei confronti però dei tempi e delle decisioni è costante, l'ultimo a fondo arriva dal Veneto di Zaia. Non approvare l'autonomia sarebbe un'ecatombe istituzionale e politica, parola del governatore del Veneto Luca Zaia che suggerisce al governo di proporla a tutte le regioni. In teoria, dice in un'intervista al Corriere della Sera, dovrebbe convenire a tutti i governatori. Chi combatte per non averla ha come unica prospettiva quella di condividere il malessere tra tutte le regioni. Zaia risponde anche a chi parla oggi di secessione dei ricchi. Beh, di idem. Noi stiamo facendo esattamente quanto è scritto in Costituzione per la precisione sul tracciato della riforma del titolo quinto voluta nel 2001 dal centro-sinistra. Eppure leggiamo, osserve il governatore Veneto, che il rispettare la Costituzione è un atto di secessionismo, vuol dire che qualcuno non è connesso con il suo cervello. Quanto al ruolo del Parlamento rispetto all'intesa spiega, nessuno vuole impedirgli di esprimersi ma la Costituzione è chiara. Dopo la firma dell'intesa tra premier e governatore, è prevista l'approvazione in Parlamento con un sì o con un no, senza modifiche. In attesa del vertice tra Salvini, Di Maio e Conte, la prossima settimana ognuno fa sentire le sue ragioni. Si tratta infatti di un dossier vitale per le regioni del nord, Veneto e Lombardia, esposte con i propri elettori dopo il referendum. Un rinvio sarebbe un'ecatombe, dice Zaia. Gli dà manforte il collega di partito Gianmarco Centinaio. La riforma è nel contratto di governo, avverte gli alleati, se hanno un dubbio possono consultarlo, dice il ministro dell'agricoltura. Ma tra i 5 stelle è scattato l'allarme, anche perché le intese rischiano di penalizzare il loro bacino elettorale, il Sud. Non creeremo mai regioni di serie A o di serie B con la riforma delle autonomie che non può minare il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini. L'altolà del sottosegretario agli esteri, Maglio Di Stefano, che avvisa l'alleato. Salvini ha il dovere di occuparsi di tutti gli italiani. Dicevamo naturalmente che la settimana prossima poi arriveranno nuovi elementi per capire in che direzione si andrà sul caso Diciotti. Lo sapete, coinvolge il ministro dell'interno Salvini, ma è un'inchiesta che si allarga, perché in qualche modo c'è stata un'autodenuncia da parte di altri esponenti del governo, il premier Conte, il ministro Toninelli, lo stesso vicepremier Di Maio, a testimonianza che quella sul caso Diciotti è stata, dal punto di vista dell'esecutivo, una decisione collegiale. In questo modo che cosa potrà capitare? Che sicuramente e comunque il Movimento 5 Stelle dovrà esprimere un parere sull'autorizzazione a procedere o meno nei confronti di Salvini. Lo farà in attesa poi della decisione e della Giunta dopo molte settimane di tiramolle e di polemiche attraverso il suo blog. Saranno gli iscritti al Movimento 5 Stelle, gli iscritti al blog a direzione no, con una formula peraltro che richiama quella referendaria che sta facendo molto discutere, perché non immediata nella comprensione. Comunque a esprimersi saranno iscritti che non hanno letto naturalmente i faldoni dell'inchiesta. È una decisione, dicono le opposizioni, ma anche parte della stessa base politica che non dovrebbe essere demandata agli iscritti del blog. Insomma è tutto un capitolo questo che sicuramente nelle ultime settimane ha messo a dura prova anche la tenuta dell'esecutivo, perché da una parte la Lega tirava in una direzione, dall'altra il Movimento 5 Stelle era in difficoltà rispetto a quanto espresso in tanti altri casi in situazioni diverse. Staremo sicuramente a vedere quella che sarà la questione poi legata all'inchiesta che andrà avanti, dicevamo di un'inchiesta allargata che a questo punto potrebbe mettere in difficoltà, così come altri capitoli, la questione che riguarda la tenuta dell'esecutivo. Vediamo se con la regia possiamo mandare in onda questo servizio sul caso Diciotti. Possiamo intanto vedere per cercare di arrivarci all'agenzia che riguarda la presa di posizione di Martina, che va un po' in direzione di quello che vi dicevo. Martina denuncia il Movimento 5 Stelle per non prendere una decisione, scarica la decisione sui militanti ed era un po' il riferimento di cui vi parlavamo, l'ex segretario del Partito Democratico che denuncia quello che è l'equivoco di fondo sui prossimi passi dei grillini. Dovremmo esserci. Sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per sequestro aggravato per i migranti bloccati la scorsa estate sulla nave militare Diciotti che lei aveva tratti in salvo, il referendum online tra i 5 Stelle sarà domani dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Rousseau alla vigilia del voto della Giunta sulle immunità di Palazzo Madama, che passerà poi la palla all'Aula del Senato che dirà entro 30 giorni l'ultima parola. Sarà quindi la consultazione via internet a decidere ufficialmente la linea dei pentastellati sulla vicenda che mette a rischio la tenuta della maggioranza. Il blog delle Stelle pubblica il quesito preceduto da una ricostruzione che è sulla linea della memoria presentata in Giunta da Salvini con allegate le lettere del Premier Giuseppe Conte, del Vice Premier Luigi Di Maio e del Ministro Danilo Tolinelli. La decisione di ritardare lo sbarco per cercare un accordo internazionale per ridistribuire i migranti fu condivisa nel governo. Il blog delle Stelle pubblica il quesito preceduto da una ricostruzione che è sulla linea della memoria presentata in Giunta da Salvini con allegate le lettere del Premier Giuseppe Conte, del Vice Premier Luigi Di Maio e del Ministro Danilo Tolinelli. La decisione di ritardare lo sbarco per cercare un accordo internazionale per ridistribuire i migranti fu condivisa nel governo. Ma il blog dei pentastellati, che del sia le autorizzazioni a procedere hanno sempre fatto una bandiera, è attento soprattutto a sottolineare che il caso del Ministro dell'Interno è diverso da tutti gli altri. Non è il solito voto sull'immunità, scrive, di cui i casi si occupa l'articolo 68 della Costituzione e su quelli il Movimento 5 Stelle è sempre stato ed è inamovibile, niente immunità, niente insindacabilità. Questo è un caso diverso, stiamo parlando dell'articolo 96 della Costituzione, è un caso senza precedenti, perché mai in passato la magistratura ha chiesto al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito nell'esercizio delle sue funzioni. Segue il quesito. Il ritardo dello sbarco della nave 18 per ridistribuire i migranti nei vari paesi europei è avvenuto per tutela di un interesse dello Stato, chiede alla piattaforma Rousseau, e propone due opzioni. Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere, oppure no, quindi si concede l'autorizzazione a procedere. Quesito che innesca subito polemiche, nel Movimento innanzitutto, la senatrice Paola Nugnes ironizza sulla comprensibilità. Dobbiamo votare no per votare sì, commenta. Elena Fattori, altra dissidente pentastellata, bolla la votazione online come illegittima e annuncia che lei voterà sì all'autorizzazione a procedere in Senato. Il capogruppo Palazzo Madama del PD Andrea Marcucci twitta il Movimento 5 Stelle salva Salvini dai giudici, una consultazione finta su Rousseau, archivi anni di battaglia contro l'immunità parlamentare, come si cambia per non morire. Alla richiesta di autorizzazione per Salvini potrebbero seguire quelle per Conte, Di Maio e Toninelli. Il Senato ha infatti trasmesso alla Procura di Catania gli atti della Giunta con le lettere di assunzione di responsabilità dei ministri pentastellati e del Premier. E la Procura ha aperto un fascicolo. È stata una settimana segnata fortemente anche dalla protesta per il prezzo del latte che ha in qualche modo mobilitato un'intera regione, la Sardegna, che peraltro è quella in cui si vota la prossima settimana. Forse anche per questo le decisioni e le trattative hanno preso un piede anche molto veloce nei tempi, magari scavalcando anche le competenze dei singoli ministri. Per ora si è arrivati a una tregua, che l'accordo sia un passo, lo vedremo, si viaggia a suon di centesimi. Hanno deciso di fermare la protesta, almeno per ora. I pastori sardi hanno interrotto mobilitazioni e sversamenti di latte per le strade dopo otto ore di riunione, ieri a Cagliari al tavolo delle trattative con governo, regione e imprenditori. Otto ore durante le quali è stato fissato un punto fermo. Ci saranno da oggi tre giorni di tregua, anche se in parte già violata ad Oristano con un blitz contro un camion e lo sversamento di migliaia di litri finiti sull'asfalto. Un segnale preoccupante per la trattativa in corso. Dovrà essere deciso adesso se può andar bene il prezzo indicato nella bozza di accordo. 72 centesimi fino ad aprile, poi a maggio ci sarebbe un'integrazione per arrivare ad un euro al litro. Un correttivo legato al ritiro dal mercato del pecorino romano in eccesso che dovrebbe far risalire il prezzo del prodotto primario, il latte o vino. I pastori hanno chiesto tempo per decidere anche se il presidente della regione, Francesco Pigliaru, e il ministro dell'agricoltura Centenaio hanno fatto sapere che bisogna far presto e arrivare all'accettazione della proposta, soprattutto per far riprendere l'attività dei caseifici. Ma i pastori reclamano quella che per loro è la giusta remunerazione del latte. Per arrivare ad un accordo però chiedono garanzie e bisogna limare gli ultimi dettagli e vogliono una clausola che assicuri di raggiungere l'obiettivo di un euro al litro pagato dagli industriali che, scrive la Col Diretti in un comunicato, sono i diretti beneficiari delle consistenti misure di sostegno per 49 milioni di euro messe in campo da governo e regione. Il prossimo giovedì ci sarà un nuovo vertice al Ministero delle Politiche Agricoli, tre giorni prima delle elezioni regionali in Sardegna, un appuntamento che pesa e non poco sulla guerra del latte. Oggi sull'isola è arrivato il Ministro dell'Interno Salvini che giovedì scorso aveva chiamato una delegazione di pastori al Viminale, un tentativo di mediazione, però fallito. Andiamo adesso alle parole di Donald Trump. Aveva annunciato un qualcosa di importante relativo alla situazione in Siria. Siria, dal punto di vista del Presidente americano, ormai completamente liberata, resiste all'ultime sacche dell'ISIS, l'ERCA Forti si combatte, ma insomma siamo agli sgoccioli dal punto di vista della resistenza jihadista. Poi però ci sono tutte le persone, combattenti anche di origine europea, che sono stati catturati. E su quello la linea di Donald Trump è stata molto dura e molto diretta. Si rivolgeva proprio ai paesi europei. Un rovido messaggio trasversalmente minaccioso all'Europa con annesso annuncio sulla Siria, il tutto concentrato in due tweet in perfetto stile Trump. Il messaggio recita gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'ISIS che abbiamo catturato in Siria e di processarli. L'alternativa, e qui sta la neanche tanto velata minaccia, non è buona e consiste nel fatto che saremo costretti a rilasciarli. Rilascio che, afferma Trump nel suo secondo cinguettio, comporterebbe un ritorno dei miliziani del sedicente Stato Islamico nel vecchio continente. Facciamo tanto, spendiamo tanto, ora tocca ad altri fare il lavoro che sanno fare. Noi siamo pronti a ritirarci dopo una vittoria al 100% sul califato. Annuncio social che arriva il giorno dopo la conquista da parte delle forze kurdo-siriane facenti parte della coalizione a guida statunitense di Baguz, ultima roccaforte dell'ISIS in Siria, anche se i combattimenti continuano nelle vicinanze dove sarebbero intrappolati un migliaio di civili utilizzati dagli jihadisti per proteggersi. Eliminare il califato non è abbastanza per la sconfitta dell'ISIS, avverte il generale alla guida del comando centrale statunitense Joseph Votel, scettico sul ritiro come gran parte dei vertici militari a stelle e strisce. Siria, che è stato uno dei teatri del confronto ormai sempre più muscolare tra Stati Uniti e alleati, a cominciare da Israele e da una parte, e Iran, insieme alla Russia, grande protettore di Assad, dall'altra. Iran, considerato dagli Stati Uniti che continuano ad invitare l'Europa a sfilarsi dall'accordo sul nucleare come una delle maggiori minacce per la pace in Medio Oriente. Teheran caldeggia un nuovo olocausto, ha dichiarato ieri il vicepresidente Pence alla conferenza di Monaco. Sempre più paesi dicono che a destabilizzare davvero la regione sono gli Stati Uniti. Gli ha risposto oggi, sempre da Monaco, il ministro degli esteri iraniano Zarif, il quale ha anche definito grande il rischio di una guerra con Israele. Pronte caldo, resta anche quello legato alla situazione in Venezuela. Due eri partiti dagli Stati Uniti carichi di cibo e di medicina sono atterrati, hanno fatto nelle ultime ore nella città colombiana di Cucuta. Gli aiuti erano stati richiesti da Guaidó, che è già una cinquantina di paesi, ma non l'Italia, lo ricordiamo, hanno riconosciuto come presidente ad Interim. Questi aiuti potrebbero essere la scintilla per la spallata definitiva al potere di Maduro. Guaidó infatti ha lanciato un appello al popolo venezuelano perché sabato prossimo, quella che ha definito una valanga di persone, si presenti sul confine per andare a prendere gli aiuti che i militari fedeli a Maduro continuano a bloccare oltre frontiera. Già 600.000 volontari hanno dato la loro disponibilità per questa distribuzione, ha detto Guaidó. E poi c'è l'annesimo sabato di protesta in Francia, ancora i gilet gialli, siamo al 14esimo sabato di mobilitazione, ancora segnato una volta da un episodio di antisemitismo, non è la prima volta, c'erano già state scritte, slogan in queste manifestazioni, è niente di più lontano di quello che ci rende dal punto di vista degli altri una grande nazione. Così la dura presa di posizione del presidente Macron. Il giorno dopo l'aggressione, fortunatamente solo verbale, al filosofo francese Alain Finkielkraut, la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Un atto dovuto, anche se lo stesso intellettuale e accademico di Francia, intervistato stamane, ha detto che non sporgerà denunce, che non si sente né una vittima né un eroe. Salvo aggiungere, subito dopo, che pur non avendo fatto in tempo a spaventarsi, ha avuto l'impressione che se non fossero sopraggiunte alcune persone a metterlo in salvo, i manifestanti che lo stavano insultando avrebbero potuto spaccargli la faccia. Sono diventati arroganti, ha ribadito Finkielkraut, che quando il movimento nacque tre mesi fa aveva difeso le ragioni della protesta e che però oggi arriva a dire che sarebbe il caso di vietare le prossime manifestazioni. Decisione che difficilmente verrà presa anche se ormai il movimento comincia a accusare una certa stanchezza. Perde il favore della pubblica opinione che per la prima volta da tre mesi a questa parte dichiara di essere favorevole ad uno stop appunto delle manifestazioni degli stessi militanti che pur essendo ancora molto numerosi e molto attivi faticano a mantenere il ritmo che si sono imposti. Oggi, per esempio, si sono ritrovati ancora una volta a Parigi dove tutto era cominciato lo scorso 17 di novembre. Appuntamento alle 11 all'arco di trionfo e poi via al corteo più o meno una mezz'ora fa con una rappresentanza ulteriormente ridotta stando almeno alle prime cifre disponibili rispetto a ieri quando nella capitale si erano radunate 5.000 persone. In qualche modo invece improvvisa esplosa la protesta la violenza a Tirana in Albania è un paese molto in difficoltà da diversi punti di vista c'è un presidente eletto nel 2013 rieletto nel 2017 ma l'opposizione si era data appuntamento proprio per denunciare la corruzione del presidente dal loro punto di vista c'è stato un vero e proprio assalto assalto ai palazzi del potere. Il palazzo del governo preso d'assalto da 50.000 albanesi la più grande manifestazione dai tempi della caduta del regime comunista le immagini arrivate ieri da Tirana sono allarmanti per tutti Albania in primis ma anche il resto d'Europa assiste con preoccupazione crescente soprattutto l'Italia che non dimentica i barconi carichi di migranti arrivati nei primi anni 90 scene che potrebbero ripetersi se l'Albania dovesse sprofondare in una crisi duratura quello che sta avvenendo è uno scontro violento tra i due partiti più forti il PD principale forza d'opposizione di centrodestra guidato da Lulzim Bascia e i socialisti del premier Edirama al potere dal 2013 confermato con il 48% nelle elezioni del 2017 Bascia accusa il primo ministro di qualsiasi nefandezza corruzione collusione con il crimine organizzato brogli elettorali per questo chiede le dimissioni dell'esecutivo e libere elezioni anticipate la rivolta non si fermerà fino a quando questo sistema marcio non verrà scardinato ha detto ieri annunciando una nuova manifestazione per giovedì ed è spalleggiato da Saliberiscia ex premier ex presidente e leader storico del partito democratico che paragona Rama a Nicolás Maduro e che definisce l'attuale Albania un narcostato che calpesta la democrazia il punto è che Rama e i socialisti accusano l'opposizione sostanzialmente delle stesse cose e chiedono a Bascia di chiarire alcune vicende che risalgono a quando era sindaco di Tirana vale a dire sospetti abusi edilizi nella sua villa e mazzette milionarie che avrebbe incassato in cambio di favori vari un rimpallo d'accuse che non rappresenta una novità per il paese ma che questa volta sta prendendo una brutta piega come si è capito ieri con gli scontri davanti e dentro il palazzo del governo e come si era intuito già giovedì scorso quando in Parlamento un deputato dell'opposizione nonché braccio destro di Bascia ha lanciato inchiostro contro il Premier scene che non gioveranno all'Albania in vista dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea che partiranno a giugno torniamo in Italia andiamo a capire come si sta modificando il progetto per quel che sarà il nuovo Ponte Morandi che abbiamo imparato a immaginare nel disegno originario qualcosa sta cambiando per ragioni di sicurezza e ragioni tecniche vediamo di notte ha una sua luce ha un suo ritmo la bellezza del ponte non deve essere una bellezza cosmetica deve essere essenza così Renzo Piano descriveva lo scorso settembre la sua idea del nuovo Morandi un ponte sobrio ma non povero sicuro è facile da mantenere per durare diceva mille anni e rappresentare la città intera orgoglio di Genova la superba che non si arrende in ricordo delle 43 vittime altrettante lanterne piazzate ai lati della carreggiata la luce emanata a forma di grandi vele a sottolineare il concetto di una struttura concepita come una nave i piloni in forma di chiglia adesso però scrive il secolo XIX coi 43 lampioni della memoria escono dal progetto preliminare su cui sta lavorando Italfair società incaricata di costruire il nuovo viadotto insieme a Salini in Pregilo e Fincantieri la decisione è stata presa per motivi di sicurezza stradale troppi elementi così ravvicinati in quel tratto di strada potrebbero essere pericolosi per gli automobilisti ma ci sarebbero anche problemi per la loro manutenzione meglio allora prevedere una fila di luce al centro della carreggiata 18 in tutto una per ogni pilone di sostegno dunque un cambio del progetto originale di Renzo Piano e potrebbe anche non essere l'unico in corso d'opera concesso dall'architetto genovese a fronte di un memoriale dedicato alle vittime in un'area verde proprio sotto il ponte nel parco urbano da lui ideato un'altra variazione riguarda lo spostamento della traiettoria del nuovo ponte di una ventina di metri verso il mare uscendo dalla galleria lato est in pratica chi arriva da Savona avrà più campo visivo nell'imboccare il viadotto ma questo nuovo tracciato servirà anche ad aggirare le cosiddette utenze cioè i tubi del gas e gli oleodotti che corrono vicino alle fondamenta dei piloni del vecchio Morandi la velocità sarà di 80 km all'ora prima del crollo era di 90 il progetto preliminare del nuovo ponte Morandi deve essere consegnato alla struttura commissariale entro l'8 marzo nelle specifiche tecniche richieste non ci sono riferimenti sulla presenza di lampioni sul ponte e le varianti in corso d'opera non sono da escludere demolizione e ricostruzione andranno di pari passo per garantire i tempi annunciati per la riapertura nella primavera del 2020 andiamo adesso al campionato di calcio l'ultima a scendere in campo per la ventiquattresima giornata Roma e Bologna domani sera ma intanto la zona Champions è sempre più affollata è sempre nel segno del Milan qualunque cosa faranno le romane i rossoneri davvero hanno fatto la differenza su un campo di una diretta avversaria o quella dell'Atalanta nel segno di un bomber che ogni volta che tocca il pallone segna è una simbologia forte quella che accompagna il Milan formato Champions nel successo di Bergamo Gattuso aveva parlato di Elmetto per scendere nella trincea di Gasperini e dei suoi calciatori assatanati chi meglio di Piontek che risponde con le pistolettate del suo brand per regalare altri due gol della fantastica serie milanista sei nelle prime cinque partite con la nuova maglia uno per ogni ora in campo una maglia pazzesca per il centramanti per il quale l'investimento poteva sembrare un azzardo rispetto al salto da Genova a San Siro e il tecnico puntualizza un aspetto del suo Robocop io l'ho fatto la battuta e quando fa il riscaldamento non vede l'ora di cominciare la partita sempre che si rompe le scatole a riscaldarsi non è che non ha voglia a riscaldarsi Piontek non si ferma più 24 reti stagionali meno due da Cristiano Ronaldo in campionato ma il Milan non è solo nelle traiettorie del polacco perché le buone idee di Gattuso trovano disponibilità totale da parte del gruppo ottimo anche l'inserimento di Paquetà maturo per il calcio europeo al quale aggiunge virtuosismi da brasiliano il Milan difende di squadra una squadra adesso serena applicata e organizzata che sta per ritrovare altri uomini importanti dopo i tantissimi infortuni come è lontano il mese di dicembre con un diavolo incerottato confuso e alle prese con la crisi di Higuain due pareggi due sconfitte e l'eliminazione dell'Europa League dal capo con la Fiorentina sette gare senza perdere i meriti di Gattuso sono evidenti anche se qualcuno lo considerava inadeguato ora invece il Milan sembra avere credenziali autorevoli per il quarto posto con le romane che devono rispondere per non deprimersi e anche l'Inter deve temere la crescita dei cugini è chiaro che in questo momento il quadro nero-azzurro al confronto è crepuscolare i contorni della realtà difficili da definire dentro e fuori dal campo la sfida di oggi alla Sampdoria è per gli interisti come guardarsi allo specchio per dire chi siamo e soprattutto dove andiamo il rischio dell'autolesionismo è alto non si può pensare che con i cardi all'angolo l'Inter abbia risolto tutti i suoi problemi lui pretende le scuse per la fascia negata Spalletti dice che finché rimane lo userà l'episodio di ieri dei sassi contro l'auto con a bordo Vandanara e i suoi figli è la prova di come il calcio partorisca ancora la follia di chi lo vive come una dottrina perché evidentemente la sua esistenza è priva di altri argomenti e a proposito di capitani in disarmo stasera a Napoli in attesa del posticipo di Romani tra Roma e Bologna chiuderà il programma domenicale scendendo in campo al San Paolo contro il toro dell'ex Marzarri dopo aver chiuso definitivamente un importante capitolo di storia legato al nome di Marek Amsic si stanno chiudendo anche i mondiali di sci ad Arin Svezia manca l'ultimo oro probabilmente quello che manca alla squadra austriaca nel segno di Hirscher Negosgarve un speciale che chiude una competizione che era iniziata benissimo per i colori azzurri ci sono stati degli acuti ma magari rispetto alle ambizioni della vigilia poteva andare ancora meglio però l'Italia ha battuto un colpo tre medaglie oro bronzo e argento e cinque piazzamenti due quarti posti un quinto e due sesti non è la valanga azzurra e neanche l'uragano che scatenarono tomba e compagnoni ma lo sci italiano è presente e vivo ai mondiali svedesi di Ore chiude il quarto posto dietro Stati Uniti e Norvegia in compagnia di Francia e Slovacchia il miglior risultato è quello di Dominic Paris oro nel Super G e quello di Sofia Goggia argento sempre nel Super G il mondiale finisce oggi con lo slalom e con gli azzurri lontano dal podio sono tre donne invece i personaggi di questo mondiale tutte esuberanti sorridenti quando non si fanno male e coinvolgenti la Goggia ha vinto solo una medaglia ma ha mostrato il carattere dei campioni la sincerità della Goggia a volte disarmante dopo la delusione nella libera solo quindicesima ha liquidato la cosa con un niente scuse ho sciato male l'altra eroina del mondiale l'americana Lindsay Fon ex fidanzata del golfista Tiger Woods e amica di Lewis Hamilton la Fon ha lasciato lo sci proprio a ore dopo una carriera piena di successi dopo aver conquistato il bronzo nella libera anche la terza stella del mondiale americana si chiama Michaela Schifrin e ha vinto due medaglie d'oro nel Super Gigante ieri nello slalom speciale la Schifrin ha 23 anni e ha già vinto due medaglie d'oro olimpiche due coppe del mondo assolute è anche l'unica in tutta la storia dello sci ad aver vinto quattro volte di seguito lo slalom iridato secondo la rivista economica Forbes la giovane statunitense di Vail ha il potenziale per rimanere al centro della scena e dell'industria sportiva per almeno un altro decennio arrivando così a guadagnare dai 30 ai 50 milioni di dollari ci fermiamo con questi conti ma tra poco torniamo con gli aggiornamenti dopo la pubblicità di nuovo insieme non ci sono aggiornamenti importanti vi ricordo come sempre informazione che torna all'eventi col telegiornale grazie di averci seguito e davvero una buona domenica a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti